Allergie è un termine riduttivo di varie patologie che colpiscono un italiano su quattro e che proprio perché sottovalutate sono un problema sociale. E si fa il punto sul tema delle allergie a Montecitorio a Palazzo Teodoli Bianchelli nella sala Nildejotti. All'incontro partecipano allergologi, rappresentanti istituzionali, parlamentari, associazioni di pazienti, per richiedere la creazione di un tavolo ministeriale per la prevenzione e la gestione delle allergie. Allergie che possono essere respiratorie, come asma e rinita allergica, di cui soffre un 20% della popolazione. Alimentari che colpiscono il 3-4% degli italiani. Da veleno di imnotteri e circa 5 milioni di persone ogni anno sono punte da vespe, api, calabroni e quelle da farmaci e ne soffre il 7% della popolazione. E tutto questo, oltre alla sofferenza personale, con un peso economico non indifferente per il sistema sanitario nazionale. Noi oggi vogliamo mettere l'accenno proprio sull'aspetto sociale di queste patologie perché rappresentano non solo un problema dal punto di vista della prevalenza, quindi del numero dei soggetti interessati. Oggi sappiamo che circa un quarto della popolazione italiana è affetta da patologie allergiche. Ma soprattutto su quello che è il problema delle gravi allergie. La ricaduta sociale delle gravi allergie è poco nota perché le allergie non si limitano a quello che si è abituati a credere, quindi a un raffreddore primaverile o a delle sintomatologie diciamo anche abbastanza banali. Ma purtroppo esistono le gravi allergie che sono quelle che spesso portano il paziente a morire per asma o per anafilassi da alimenti o per reazione anafilattica al veleno di menotteri. Questi pazienti purtroppo non sono adeguatamente protetti, anche perché non in tutte le regioni, per esempio, sono erogate gratuitamente le terapie che noi consideriamo salvavita, come nel caso dei pazienti allergici al veleno di menotteri, il vaccino che questi pazienti dovrebbero fare in molte regioni è a carico del paziente. Quindi ci sono delle situazioni davvero drammatiche che compromettono in maniera importante la qualità di vita di questo paziente. E proprio su questo noi vogliamo oggi mettere l'accenno. Ci sono delle differenze anche tra regioni, ci sono difficoltà di accesso alle cure dei pazienti allergici, ci sono una serie di problemi con il bambino e i bambini con gravi allergie alimentari a scuola, quindi l'anafilassi a scuola. Quindi è un problema che va ben al di là di quello che si è abituati a credere. All'allergologo si differenza da altri specialisti perché non è uno specialista d'organo, non è un cardiologo, quindi si occupa di cuore, non è un otorino, quindi non si occupa di orecchione a seggola, ma si occupa delle malattie allergiche. Qual è la peculiarità di queste malattie? Si tratta di malattie sistemiche, che intendo dire. Dal momento che sono malattie sottese dalla patologia del sistema immunitario o di altri sistemi enzimatici che sono ubiquitari nel nostro organismo, ecco che la malattia allergica può manifestarsi con sintomi anche limitati che poi tendono a coinvolgere altri organi ed apparati. Quindi la peculiarità dell'allergologo è quella di valutare il paziente non solo in base al sintomo o per il sintomo per cui ha richiesto la visita, ma andandone a valutare quelli che sono i fattori di rischio di quella problematica, quella che è la possibile evolutività e quelle che sono le comorbidità. Quindi sostanzialmente il ruolo dell'allergologo è anche quello di avere un'azione di prevenzione nei confronti della malattia allergica, di istruire il paziente in funzione di questa prevenzione. Che le allergie siano in aumento è in dubbio, però c'è anche molta disinformazione purtroppo legata alla diffusione di pratiche diagnostiche che non hanno la minima validazione a livello scientifico. Per cui le allergie, per esempio alimentari o da farmaci, hanno delle caratteristiche cliniche ben precise, che sono ben coordinate, ben standardizzate e sono proprio il campo specifico dello specialista in allergologia e monologia clinica. Quindi la raccomandazione è che i pazienti che sospettano di avere un problema allergologico si rivolgano principalmente allo specialista, senza andare a cercare soluzioni miracolistiche in serie diverse, perché assolutamente sono da vietare in maniera più assoluta. L'allergia ha una sua modificazione nel corso della vita, perché nelle diverse età si trovano diverse tipologie di malattie allergiche. I bambini diventano generalmente allergi al latte e all'uovo, che sono le prime cose a cui diventano allergici. Poi si innesca in questi bambini, che sono dei bambini anche geneticamente predisposti a diventare allergici, la cosiddetta marcia allergica. Per cui da latte e uovo, che poi regrediscono nella gran parte dei casi come allergia, cominciano poi le allergie respiratorie, cominciano gli acari, cominciano a alternare, cominciano le graminacee, poi in età più avanzata, e poi dopo si comincia con, quando c'è sempre la predisposizione, delle allergie alimentari che sono di tipo differente, cioè se un adulto è allergico al latte e all'uovo, è praticamente inesistente, cominciano ad esserci allergie diverse, di tipo allergie ad alimenti di origine vegetale, piuttosto che a arachide, sedano, eccetera, eccetera. Ci sono tante tipologie di allergie, praticamente è tutto però sotto controllo genico, cioè se una persona è predisposta a diventare allergica a una certa cosa, a una certa proteina allergenica, non diventerà allergica a un'altra proteina allergenica, diventerà allergica a quella se ha modo di incontrarla nel corso della sua vita. Questo vale anche per le allergie respiratorie. Abbiamo visto che soprattutto per quanto riguarda le allergie alimentari, spesso ci sono, insomma spesso sì, talvolta ci sono problemi drammatici, perché se non è ben chiara l'allergia che si ha, si può incorrere in eventi funesti. Questo è molto giusto, nel senso che la severità di una reazione allergica ad alimenti dipende essenzialmente dalle caratteristiche fisico-chimiche della proteina a cui uno è sensibilizzato. Per cui ci sono delle proteine che sono estremamente labili e si degradano facilmente col calore e la digestione e danno problemi soltanto locali, a livello orale, dopo l'ingestione. Altre proteine sono estremamente gastro- e termoresistenti sono quelle che mettono a rischio il paziente. Il rischio poi può essere aumentato quando ci sono dei cofattori tipo lo sforzo fisico piuttosto che l'assunzione di farmaci antinfiammatori o di bevande alcoliche che aumentano la velocità di assorbimento di queste proteine allergeniche. È un problema sociale, diventa questa allergia con la A maiuscola? Un quarto della popolazione dei paesi sviluppati soffre di malattie allergiche di tipo differenti, un po' anche legato al cambiamento degli stili di vita nostri per cui siamo esposti a un sacco di sostanze a cui una volta non eravamo esposti. Basta pensare allo sviluppo di farmaci nuovi, piuttosto che all'introduzione di nuovi alimenti, il cambio di clima che determina la comparsa di piante in zone che prima non contenevano di un certo tipo, per esempio il cipresso che adesso si sta spostando verso nord, piuttosto che la betulla che è scesa dal paese nord. Anche le politiche del territorio contano perché la piantumazione con delle piante allergeniche nelle città può determinare delle pandemie di allergie nei confronti di certe fonti allergeniche che prima non erano minimamente in grado di provocare dei disturbi. Le patologie allergiche sono in costante incremento e questo è un dato incontrovertibile perché è dimostrato da molti studi effettuati anche in Europa e in Italia. Luci perché in questi ultimi anni ci sono state delle ricerche scientifiche incredibili che quindi hanno consentito di conoscere meglio quelli che sono i meccanismi immunologici che stanno alle base delle malattie allergiche e questo ci ha portato anche a poter fare delle diagnosi molto più precise, più sensibili e quindi anche a degli approcci terapeutici molto più individualizzati. Quindi anche nel settore dell'allergologia stiamo andando piano piano a quella che oggi viene definita come medicina personalizzata, medicina di precisione e queste diciamo che possono essere le luci accanto al fatto che i nuovi LEA, cioè i nuovi livelli di assistenza delle prestazioni hanno proprio negli ultimi due anni focalizzato l'attenzione, hanno riconosciuto quello che è un ruolo esclusivo da parte dell'allergologo nell'occuparsi di certe malattie allergiche che necessitano di una particolare esperienza e specializzazione. In modo particolare mi riferisco alle problematiche relative all'allergia, alle punture di menotte, agli alimenti, ai farmaci e al contempo questi LEA hanno anche sottolineato per esempio come il medico di base svolga un ruolo di medicina generale, svolga un ruolo molto importante perché ha la possibilità di prescrivere degli accertamenti allergologici di primo livello e quindi questo fa sì che i cittadini possano avere per il prossimo futuro una diagnosi allergologica molto più rapida rispetto a quello che si è verificato finora. A fronte però di tutte queste luci purtroppo ci sono tante ombre, ci sono tante ombre perché per esempio la figura dell'allergologo nonostante ciò non viene ben riconosciuta. C'è purtroppo una scarsa conoscenza anche a livello della popolazione generale degli stessi pazienti delle allergie, si fa molta confusione tra allergie e intolleranze e non solo, l'allergologia è uno di quei settori in cui le fake news svolgono un ruolo purtroppo molto importante e a questo si aggiunge il fatto che nonostante il peso epidemiologico così importante e significativo in continuo aumento, direi in drammatico aumento, anche le strutture di allergologia sia semplici che complesse sono veramente poche in Italia e queste strutture sia universitarie che ospedaliere già sottorappresentate e anche distribuite in maniera estremamente disomogenea in tutto il territorio nazionale sono in continua fase di decremento numerico e la stessa cosa purtroppo capita anche agli specialisti sul territorio. Le motivazioni di ciò quali sono? Sostanzialmente che non c'è una programmazione regionale sanitaria e anche il fatto che non c'è un turnover, quindi i nostri specialisti che sono in fase di pensionamento non vengono sostituiti purtroppo dai giovani e questa mancanza di turnover ovviamente si riflette in maniera estremamente negativa su quelle che sono le capacità professionali dei nostri giovani specialisti. La rete allergologica ci vuole spiegare cosa può essere e cosa vuole fare? La rete allergologica vuole essere un sistema organizzativo complesso in cui noi andiamo a fare una effettiva presa in carico del paziente costruendo dei centri di riferimento di livello di base, intermedio ed elevato in modo tale che il paziente entra in questo circuito e ha la possibilità di completare il suo iter diagnostico, terapeutico e quindi seguire tutte quelle indicazioni che sono indispensabili per una patologia complessa come sono quelle derivate dalle allergopatie. Pensiamo soltanto alle gravi allergie alimentari, alle allergie da veleno di menotterio, alle gravi reazioni indesiderali da farmaci che purtroppo restano molte volte indiagnosticate perché non ci sono strutture adeguate. I dati mi hanno impressionato, mi ha impressionato l'incidenza delle allergie nei bambini anche di età inferiore ai due anni e soprattutto la preoccupazione maggiore riguarda l'incongruenza di cui è vittima il nostro paese e cioè a fronte di 15 milioni di ammalati abbiamo soltanto 680 allergologi che in via esclusiva svolgono questo lavoro nel nostro paese per non pensare poi ai numeri in continuo aumento. Allora credo che veramente una giornata come quella di oggi per chi è membro di una commissione che si occupa di questi temi ma anche per gli addetti ai lavori sia stata particolarmente importante perché questo focus ha dato la possibilità non solo di far emergere una problematica che riguarda la salute di tutti i cittadini e anche la vita dei nostri figli ma soprattutto ha fatto emergere la necessità di non poter più rinviare un intervento immediato. Lei si è fatta carico di iniziative che ci saranno anche in Parlamento proprio perché deve diventare un problema proprio per la classe parlamentare in quanto chi soffre di allergie alle più varie poi non è sostenuto dal sistema sanitario nazionale per esempio. E' proprio questo il problema allora credo che noi come dicevo prima possiamo attraverso un'azione politica trasversale perché appunto qui parliamo della salute dei cittadini e delle giovani generazioni in modo particolare mettere in campo tutti gli strumenti che la politica consente di mettere in campo personalmente già a partire dalla prossima legge di bilancio proverò a testare l'interesse del governo su questo tema eventualmente attraverso la proposizione di un progetto obiettivo per l'anno 2019-2020. E per approfondire il tema c'è una campagna di informazione Allergicamente, piano di azione per un'allergologia sociale che utilizza i social per giungere al maggior numero di italiani. Grazie a tutti.